La concorrente di Ballando con le stelle, come stanno andando questi giorni di prove? Bene, sono faticose ma bene, perché poi alla fine scopri che riesci a fare cose che mai aversi pensato nella vita e quindi è una grande soddisfazione. Poi non so durante la diretta come sarà con l'emozione, però per adesso grande soddisfazione. Abbiamo visto l'altra volta a Domenica Inn un video delle prove dove hai avuto un mancamento, quindi a livello fisico è diciamo... Allora, non è stato un mancamento, sono solo spostati un po' gli otoliti, quindi ho avuto un momento di vertigine ma è passato subito. Senti, a casa cosa ti hanno detto di questa tua partecipazione? Niente, non sono interessati a questa mia partecipazione. Senti, in gara ci sarà anche con te Simona Ventura, con cui conduci Gioci Dofonare, quindi come vivi questa competizione tra amiche e colleghe? No, io dico dall'inizio che punto su di lei, perché ha fatto Danza, perché ha fatto Lise, perché lei è il mio cavallo vincente, così nella diretta di Citofonare del 24 io avrò la vincitrice che è lei. Senti, tu sei un volto popolare della televisione, come mai in questo momento hai deciso di cimentarti in questa esperienza di ballando? Proprio perché ho fatto tutto, ho fatto tutti i generi televisivi in 40 anni e quindi mi mancava il mettermi alla prova con questa nuova sfida. Grazie mille.